Un percorso che prende le sue mosse nel novembre 2011 con una manifestazione di varie associazioni giovanili di Pescara per la richiesta di un centro socio-culturale. Nel 2015 poi la vittoria del bando regionale per l'assegnazione di fondi destinati ad uno spazio ricreativo per giovani e infine l'ufficializzazione dell'assegnazione e del luogo a loro destinato nel 2016. Un lungo cammino che oggi arriva al taglio del nastro con un fondo di 50.000 euro al quale ha partecipato anche l'assessorato alle politiche sociali del comune di Pescara. Nasce in via del circuito, nella sede di una ex scuola, lo SPAZ, il centro di aggregazione giovanile gestito da tre associazioni. Secondo me è un'iniziativa sicuramente storica per questa città. Sin da quando ero ragazzo questa città ha avuto necessità e si meritava anche di avere spazi autogestiti di ragazzi perché il mondo giovanile a Pescara è particolarmente vivace, dinamico e produttivo di attività sociali, culturali, musicali, creative. È uno spazio che loro hanno la responsabilità, il dovere ma anche il piacere di poter articolare con tutte quelle iniziative che vogliono mettere in campo, dalla sala studio alla sala di catalano sport, alla formazione, alla musica. Penso che è una cosa davvero storica per questa città anche perché uno spazio così bello in una zona non centrale può diventare davvero un fuoco acceso di iniziative e partecipazioni anche in questo punto della nostra città. Chi sono i ragazzi che gestiranno questo luogo? Sono le due associazioni che hanno vinto il bando per le reti di aggrazione giovanile della regione cioè la Soma e 360 gradi. Ragazzi delle scuole superiori, ragazzi dell'università, tutti giovani con tantissime idee e ottimi programmi che rendono questo luogo davvero qualcosa di fantastico.